Fiorentina-Frasinone 0-1. Il giorno dopo, a freddo, dopo lo sfogo ultra mega di ieri, cerchiamo di andare ad analizzare pian pianino la situazione che sta vivendo la Fiorentina e abbinata alla partita di ieri. Allora intanto la squadra potrebbe andare in ritiro, la proprietà finalmente si potrebbe far sentire con Pioli che non è più sicuro del suo posto fino alla fine dell'anno e con un comunicato ufficiale i della Valle hanno comunicato che nelle prossime 48 ore ci saranno praticamente due giorni di riflessione sull'operato di Pioli e la proprietà deciderà proprio il daffarsi nelle prossime ore e in caso non verrà esonerato Pioli potrebbe avvenire se la Fiorentina steccasse anche la prossima gara interna contro il Bologna. Insomma una situazione molto delicata. Tanti giustamente forse dicono anche di tenere Pioli fino alla fine della stagione perché alla fine in classifica sei in un limbo, a parte non hai più nulla da chiedere il campionato perché la quota salvezza l'hai raggiunta e in Europa non ci arrivi nemmeno se ti spingono con una catapulta. Quindi sei in un limbo di classifica proprio dove non hai nulla da chiedere al campionato. Che cosa rimane a dare un senso a questo finale di stagione della Fiorentina è la lotta in semifinale della Coppa Italia. La semifinale della Coppa Italia che però si è messa male e al ritorno sarà durissima perché la Fiorentina non ha soltanto un risultato a disposizione ossia la vittoria a Bergamo il che non sarà assolutamente semplice soprattutto perché io sinceramente sarei quasi per non confermarlo Pioli perché ragazzi Pioli secondo me ha un po' perso il controllo nelle ultime partite. In due anni non ha saputo, va bene i giocatori che comunque sono precari però non ha saputo comunque dare una precisa identità di gioco alla propria squadra e quello ragazzi è colpa dell'allenatore certo il materiale a disposizione non è così ampio però Pioli non è riuscito in due anni a plasmare tutti gli elementi della squadra e non è riuscito a dare una precisa identità di gioco quindi non so se è meglio esonerare Pioli adesso andare a giocarsi la semifinale di Coppa Italia con un altro allenatore oppure tenersi Pioli fino alla fine della stagione e come ormai è praticamente scontato mandarlo via a fine stagione diciamo è un nodo non da poco questo da sciogliere per la società io forse sarà controcorrente forse non servirà a niente ma anche per dare una scossa all'ambiente per dare una scossa in generale magari anche ai giocatori che potrebbero trovare motivazioni nascoste manderebbe quasi via Pioli perché darebbe quasi una scossa in questo finale di stagione e farebbe forse trovare anche delle motivazioni nascoste per i giocatori per andare ad affrontare questa semifinale di Coppa Italia al meglio e potrebbe essere questo traghettatore barra allenatore anche del prossimo anno potrebbe essere pari anche Vincenzo Montella con un articolo della Repubblica che l'ha riportato proprio ieri che Montella sarebbe disposto a tornare sulla panchina della Fiorentina seppur da traghettatore fino alla fine della stagione per poi ricominciare un percorso con la squadra viola anche il prossimo anno quindi insomma secondo me sarebbe l'idea migliore cioè prendere un allenatore come Montella in questo momento portarlo a fine fine anno e poi fare una rifondazione generale quest'estate dargli degli elementi validi degli elementi validi, dico validi per il prossimo anno per competere qualcosa di più importante magari per tornare in Europa perché Montella le sue capacità di allenatore comunque ce l'ha dimostrata soprattutto a Firenze potrebbe usare la panchina della Fiorentina come rilancio per la sua carriera visto comunque che le cose sono peggiorate soprattutto dopo gli esoneri che ha ricevuto dal Milan e dal Sevilla e potrebbe proprio usare questa occasione Fiorentina come rilancio ancora non lo sappiamo non lo sappiamo se Vincenzo però sembra appunto che ci sia questa voce che Vincenzo Montella sarebbe già disposto anche ad accettare la panchina della Fiorentina adesso fino alla fine della stagione per poi continuare un percorso insieme il prossimo anno secondo me qual è il problema principale comunque di questa situazione critica di questa crisi generale della Fiorentina secondo me il problema principale è la mancanza, l'incomunicabilità dei della valle dopo dopo praticamente quel mercato che fecero con Sousa a metà stagione cioè a metà stagione quando eravamo secondi da lì il rapporto con la squadra si è sempre più allontanato cioè da quando hanno ripreso Corvino praticamente i della valle si sono riallontanati praticamente dalla squadra lasciando tutto in mano a Corvino però non abbiamo mai capito quale fosse realmente il progetto dei della valle se c'è io ne dubito fortemente e non abbiamo mai capito gli obiettivi soprattutto posti dai della valle a Firenze soprattutto è quello che ci fa alterare perché non capiamo proprio gli obiettivi che ha la società per per portare avanti questa Fiorentina non c'è un progetto e non ci sono obiettivi questo questo è il problema principale della Fiorentina soprattutto proprio la mancanza di comunicabilità nelle situazioni di difficoltà appunto dopo quella stagione con Sousa dove a metà anno ci ritroviamo secondi in classifica addirittura andiamo a un passo dal conquistare il titolo d'inverno in quella stagione potevamo tranquillamente secondo me arrivare in Champions al terzo posto e giustamente Sousa perché aveva una panchina corta perché ragazzi la Fiorentina comunque in quella stagione stava viaggiando forte però è chiaro che la panchina non fosse all'altezza per conquistare un posto in Champions chiese scusate Sousa chiese rinforzi e la società che cosa gli rispose gli portò Benalouan che non giocò neanche una partita Panagiosis con E che giocò dieci minuti Tino Costa che era riserva anche nel Genoa Teio che ragazzi è passato da Meteora a Firenze ma lo è tuttora mi pare non è che stia brillando mi pare a Real Betis adesso e quindi ragazzi proprio da quel mercato si è capito che comunque la società si stava lasciando sempre più abbandonare praticamente e si stava sempre più allontanando dalla squadra e è quello secondo me la cosa che fa irritare più di tutti non tanto appunto il fatto di arrivare ai decimi certo anche il fatto di arrivare ai decimi classici che è la mancanza di ambizione ma proprio la non presenza da parte della società che si è fatta rivedere appunto come ho detto ieri anche soltanto per l'occasione della morte di Astori però poi si è riallontanato subito dalla squadra e quindi questa mancanza di comunicabilità non può portare che incertezze continue anche nei giocatori in tutto lo staff che comunque viaggia intorno alla squadra e i risultati non possono che essere negativi appunto secondo voi ragazzi va mandato via o no Pioli prima della semifinale di Coppa Italia fatemelo sapere nei commenti iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e forza Viola una palanca che mi piace al video forza Viola votate anche il sondaggio qua in alto a destra voi sareste per mandare via a Pioli o per tenerlo fino alla fine della stagione o per mandarlo via appunto prima della semifinale di Coppa Italia fatemelo sapere nel sondaggio oppure in un commento qua sotto iscrivetevi al canale sempre forza Viola anche in queste situazioni di difficoltà e arrivereci là che ci vediamo al prossimo video Allora